E mentre l'edilizia perde pezzi, c'è chi aumenta il fatturato grazie all'e-commerce, vendendo dunque in rete. Il premio Web Italia va ad un'azienda di Ancona, la Cone, vediamo. A dispetto della crisi, grazie anche alle tante cose che stiamo facendo sul web, si sta allargando in tutta Europa, quindi sta andando totalmente contro tendenza. La nuova strada che apre vie di fuga e salvataggio dalla corrente della crisi è quella digitale. Succede in un campo messo in ginocchio nella nostra regione, quello dell'edilizia. In due anni, 434 imprese chiuse, la maggior parte delle quali artigiane. Il nuovo fronte arriva da Sassoferrato, nel Fabrianese, dalla Diazen, Diazen.com, che grazie ad un portale multilingua va a conquistarsi fette di mercato in Europa. Succede anche nella Sartoria di Qualità, la camiceria su misura. È il caso di Neronote.com, portale nato da una joint venture dell'azienda Taccaliti di Camerano, che permette di scegliere dal tessuto al disegno una camicia. Il segreto, insomma, è quello di sbarcare sulla rete come un canale a sé e non come una vetrina senza contenuto. Ma qual è la situazione delle imprese di casa nostra in rapporto al web? È una situazione estremamente disomogenea. Ci sono alcune imprese, non necessariamente grandi o non necessariamente giovani, che stanno lavorando in maniera molto intelligente e stanno lavorando molto bene. Il panorama medio probabilmente ancora ha parecchi spazi di evoluzione. Quello che fa la differenza oggi è quando l'impresa considera il web come un ambito di evoluzione strategica dell'azienda, piuttosto che non semplicemente come un luogo dove mettere una propria presenza. E con la sensibilità crescono anche i riconoscimenti. L'Anconetana Cone ha ottenuto il premio alla carriera a dieci anni, un'eternità per il mondo digitale, nel corso del premio Web Italia di Pescara.